Elettra Estetica seleziona con attenzione i migliori brand. Utilizzo prodotti sempre di alto livello quali appunto Ultraskins, la Matisse, Overline e anche Unica e questo lo faccio perché voglio far sentire i miei clienti sempre coccolate e sempre al centro dei miei pensieri e devo essere sincera quando dico che mi fa molta rabbia quando dicono che le clienti sono tutte uguali, assolutamente ognuna di noi è diversa e ogni cliente sia al maschile che al femminile è unico e in maniera tale deve essere trattato. Il nostro lavoro è quello anche di saper interpretare i desideri della nostra clientela e questo grazie appunto a migliori brand che mi accompagnano in questa continua crescita e formazione spero di riuscire sempre a raggiungere questo risultato. Da sempre amo questo lavoro e lo faccio con passione, infatti dico sempre di non aver mai lavorato un giorno della mia vita.